che ciclista che so e voglia appena si è salito è la vicenda nova si è salito tre volte la terza volta l'è scocciata qui è rotto il cavallinetto dietro perché la vicenda c'è i cavalli cavallinetto quello a forma dei cavalli da dietro ma qui è rotto tronzo questa è la rota no di dietro quel pistolino che sta giù così così hai capito il pistolino della rota di dietro hai capito no più o meno è tipo il pistolino come il tuo c'ha ragione nonno c'è il reggiano c'è il reggiano è reggio emilia se no che stanno a regge i coglioni reggono i coglioni si reggono i tuoi come si reggono è Ah, ah, ah